Ciao, sono Michela Rodella, sono nata l'8 gennaio 1989, il mio ruolo è difensore e il mio numero di maglia è il 28. Ho scelto questo numero perché il numero che volevo era già occupato, ho scelto di giocare come difensore perché è un ruolo che mi permette di correre parecchio e di fare sia la fase difensiva che la fase offensiva. Ho iniziato a giocare a calcio perché è uno sport che mi è sempre piaciuto, avevo provato a giocare a pallavolo ma sono scappata dopo il primo allenamento e mio papà mi ha portato a giocare a calcio e da lì è iniziata la passione. Nella vita oltre a giocare a calcio lavoro, il mio lavoro consiste in un rilevamento prezzi nei supermercati e una sorta di merchandising. Riesco a consigliare i miei impegni perché il lavoro che faccio è abbastanza flessibile, mi gestisco io con gli orari e quindi non ho problemi durante la giornata con il lavoro e poi la sera allenarmi. Il mio ricordo più bello durante la mia carriera calcistica è stato nel 2008 la vittoria dell'europeo, la nazionale under 19. Il calcio femminile in Italia penso che negli ultimi anni ha avuto sicuramente una crescita grazie alle squadre maschili professioniste che hanno introdotto appunto la parte femminile. Del calcio femminile mi piace perché è uno sport in crescita, le ragazze giocano non per una questione economica ma giocano prettamente per una passione che hanno fin da bambine e quindi penso che sia una cosa molto importante ad oggi. Del calcio femminile non mi piace il fatto che ancora troppe persone sono legate a un pregiudizio verso questo sport e la cosa positiva è che appunto le squadre maschili si sono avvicinate al femminile e quindi possono migliorare la situazione che c'è in Italia. Il mio hashtag è Guerriero e l'ho preso per mio cugino. A una bambina indecisa su giocare a calcio o no gli direi semplicemente di fare quello che ha voglia di fare senza il pregiudizio di nessuno perché il calcio è uno sport come un altro, è uno sport bellissimo dove si sta in gruppo e ci si possono togliere tante soddisfazioni. Il mio obiettivo per questa stagione è quello di vincere il campionato.